Grazie Buonasera a tutti Innanzitutto grazie di essere qua Io mi occupo delle attività culturali della Casa della Carità che è un luogo come potete vedere che fa cultura, mi piace dire per prima cultura e anche accoglienza Siamo lieti di averli qui con noi oggi proprio perché per noi è fondamentale regalare bellezza ai nostri ospiti operatori e volontari che sono presenti qui questa sera perché noi facciamo una cultura dove la fragilità è vista come un valore a partire anche delle storie più sofferte dei nostri ospiti cerchiamo di ritrarne la bellezza che è dentro di noi L'associazione Permito si occupa di portare la musica la musica classica la musica corta in tutti i luoghi della città che siano o non siano deputati a raccogliere la musica ringrazio la Casa della Carità che ci ospita tutte le volte ancora con tutti sperando di rivedere prestissimo e non altro evento grazie il conservatorio ha un lungo percorso insieme già da qualche anno con l'associazione ed è il desiderio del conservatorio portare la busca soprattutto fuori dalle mura del conservatorio quindi si è aperta sempre di più verso la città di Milano grazie ancora e buona scorsa è un esperimento cioè è una, come dire, una promessa che ha voluto dal direttore perché normalmente si formano negli quartetti, di saggio nelle classi dell'uno e dell'altro in questo caso invece abbiamo pensato bene stimolato dal direttore il professor Paccio di fare un percorso diverso e questo percorso ci porta con la potenza della musica dai mitici anche in più mosapiani quindi con alcuni regami che adesso avremo ad elencare fino ai giorni nostri grazie a tutti 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 grazie a tutti